Bentornati all'Ostagista Podcast, questa settimana sono felicissimo perché insieme a voi ho il piacere di diventare l'Ostagista di uno, secondo me, dei migliori imitatori d'Italia. È anche un bravissimo comico, l'abbiamo visto nelle ultime settimane a tale quale show, ed è Leonardo Fiaschi. Ciao Leo, benvenuto! Ciao ragazzi! Inizio subito così con Paolo Brosio. No, voglio iniziare come c'è un video su YouTube, in Bulgaria, dove quel presentatore rideva nella voce degli ospiti. Ah sì, in Francia, in Francia. Che penso sia finto. Sai che non lo so? Sai che te mi dici in Francia, uno mi dice in Bulgaria, l'altro ogni volta, alla prossima volta io dirò in Francia. No, è in Bulgaria. È in Bulgaria? È in Bulgaria. No, lo spieghiamo, intendi quel video di quel programma televisivo in cui c'erano tutte persone con una risata strana che ridevano sguiatamente. No, un altro, perché in Bulgaria uno interviene, il presentatore intervista, tre persone hanno dei problemi alle corde vocali. Ok. E parte uno e fa... Con questa voce, e poi subito dopo un altro... E lui ride, in realtà non hanno dei problemi seri, ragazzi. Lui comincia a ridere, non smette più, piange, la risata, è licenziato. Secondo me è finto questo video. Non lo so, sai che non l'ho mai visto, lo andrò a vedere. Secondo me è finto. Tu in generale, tipo, tu che sei un imitatore, sei un comico, quando è il comico sul palco a ridere delle sue stesse battute, perché proprio non ce la fa rimanere nel personaggio, per te è una cosa positiva, perché fa tutto parte del gioco, un po' dici, cavolo, devo rimanere nella parte. Non è bellissimo. Cioè, perché la gente dice, ah, ride delle sue battute. Non è bellissimo. Cioè, se lo fai sempre, è brutto. Ogni tanto ci sta che ti scappa una risata, no? Ti ricordi un episodio in cui non ce l'hai fatta proprio a resistere? No, io, una cosa che mi ha fatto ridere è quando ho visto nel pubblico una signora che era rimasta così ridita e pensavo... E era morta. E allora io ho riso tanto. Perché tu ti immaginavi. E poi dicevo, ma che hai fatto la signora? È morta. E io lì ho un po' riso, perché... Insomma, il bello anche degli spettacoli è quando le persone... Giusto. E questo... No, nel senso... No, giusto, giusto. No, non lo so. Ma è capitato di ridere. Quando... Sai quando è che ridi? Quando una roba è spontanea e non è prevista. Allora ti viene una battuta, dice, ah, questo mi ha fatto ridere, forse la posso usare, perché ho un ragionamento che fai tra te e te, dici, questa la posso riutilizzare. E la gente dice, che cazzo ridi? Beh, rido perché mi ha fatto ridere quella cosa. No, non rido più. E allora mi diverte il... A tutti, penso. Quando vedi qualcuno che ride su una battuta è perché è improvvisata. Chiaro. Di solito guarda o la spalla e gli fa... Che del serio è? Certo. Per esempio, la mattina c'è Fiorello. Io lo studio tantissimo. A parte, vabbè, è fenomeno. Mito assoluto. Quando gli viene da ridere è perché guarda le spalle. Perché... Capito? E vede qualcosa. Mi è piaciuta questa cosa. Partiamo da qui. Nel senso che sono contento di essere il tuo stagista per un giorno. Oh, facciamo un applauso al grande film. No, no, Leo, Leo Fianchi. No, io ti ho scoperto, grazie Fiorello, perché qualche anno fa, molto prima che ci conoscessimo anche in radio, tu fai parte della banda di R101, lavoriamo per la stessa radio, però ho molto tempo prima. Un applauso alla nostra radio. Un applauso alla nostra radio. Credo fosse il 2017, stavo guardando la tv, c'era Fiorello da Fazio e in quell'occasione Fiorello ti ha definito il migliore imitatore che lui conosca. Mi dici come ti senti quando Fiorello... Perché ha detto quella cosa? No, come ti senti quando Fiorello, cioè il più grande di tutti, ti fa un complimento così generoso. Ero a cena con la mia fidanzata e altri, la fidanzata di allora, insomma, stavo guardando la pizzeria, mi telefona la mia sorella e fa guarda c'è Fiorello, c'è il telefono in mano, chiamalo. E io, ma che chiamalo? Ma dove? Da Fazio, chiamalo. Ha detto ricevere le telefonate e risponde subito. Ma che chiamo? Quindi non vedevo la televisione, sentivo la vocina di Fazio sotto. Chiamo e risponde subito, è impensabile sta roba. Ho detto sta roba, benissimo, perché l'ho riutilizzata, perché è la pubblicità incredibile, lui per me è un... La prima volta che l'ho conosciuto lui è stata a Montecatini, che lui ha questo vizio di passare in mezzo al pubblico, non lo conoscevo ancora, e qui accanto a mio amico mi disse guarda che... Mi disse, guarda, ma guarda, ma guarda, ma guarda, ma guarda te, ma sei a mezzo al pubblico, ma guarda, ma guarda, tutto il tempo di... Ma guarda, prima mi ha guardato, come Benigno, porca miseria, ma guarda, quando mi chiedo, ma guarda, qua c'ha una sorella buona, no? E lui dice, ma guarda, no, guarda tutto il tempo, alla fine lui mi saluta dal palco, fa, ciao, ti stimo molto, io so, un pazzito, è stato il giorno più bello della mia vita. Beh, ci credo. Poi dopo finito, sono rimasto povero. Però poi ti ha fatto quel complimento incredibile. No, sono ricchissimo, prima ci siamo detti, no, sono ricchissimo, parenti tutti poveri, cioè sono l'unico, 550 anni poveri. Ma il gre, mai, comunque voglio dire, sei ancora giovane. Parenti tutti poveri, però lui mi ha detto, sta roba bellissima, sono andato a conoscerlo dietro le quitte, conosceva i miei personaggi, e mi dico, ma com'è possibile, cioè Fiorello mi sta dicendo sta roba, è carinissimo, sa tutto di tutti, perché è super informato. Questa cosa me l'hanno detto sempre molti, che lui è uno che studia tutto sempre sul pezzo. E credo che tra 40 e 50 anni, mi diranno, una volta c'era Fiorello, cioè come noi parliamo magari di Totò ora, parleremo di Fiorello. Sì, ne sono convinto. Ma a livello mondiale credo sia, ora non possiamo paragonarci con quegli americani, e che conosco, che sai, ti saluto, perché ti ha parlato spesso. Certo, tu e Ricky Gervais, così. No, però, con Jimmy Fallo, con Jimmy Fallo. Con Jimmy Fallo, se mi passi il numero lo invitiamo al podcast. È un grandissimo amico, intanto. Oggi, ma mi viene al pod? No, Fida Phil. È per quello, per quello. Vabbè, il Tonight Show. Bravissimo, c'è un applauso a Jimmy Fallo. Il Tonight Show viene subito dopo l'ostagista. Ti ha mai dato, durante magari una qualche chiacchierata, un consiglio, Fiorello? Sì. Magari anche involontariamente, c'è una cosa che gli hai visto fare che hai detto questa è la miglior dritta che potessi mai ricevere. No, ho paura a muovere, perché c'è col microfono. È un po' assisto, sette un po'. Ma sì. Dipende dalla posizione, visto che tutti hanno una posizione diversa. Eh sì. Cioè, questa è la posizione del... Il rischio, il rischio capita spesso anche a me. Da crepè, questa è da crepè. Sì. E questa è da... Crepè che non è un parente mio. Allora... Facciamo un po' di... No, stavamo dicendo, sì. Mi ha detto una cosa importantissima lui. Cioè, in realtà mi ha sbloccato. Mi disse, guarda, non importa quanto sia... Quanto sia fatta bene l'imitazione. Che te frega. È una cosa che capisci dopo i 30 anni. A 33 anni... 33. Comincia a vedere le cose da maniera... Comincia a camminare tipo sulle acque, di visione... Ho già sentito a stasera. È un mio amico. Allora, anche lui... Allora, lui disse, guarda, non importa quanto venga bene l'imitazione. Perché alla fine, sennò diventa una lezione di stile. La gente ci vuole divertire. Quindi spesso è successo... Infatti sul palco poi... Cominciò a domandarmi... Ma cos'è che vuole la gente realmente? Cioè, che cosa voglio dare io alla gente? Lui l'ha capito. Però è giovanissimo, penso l'abbia capito. Perché poi è esploso... Certo. La gente si vuole divertire, vuole essere spensierata. Se gli fai un personaggio fatto bene, ok. Però crei una divisione. Perché spesso ci sono... Cioè, è come se guardi la trapezista. Sono bravissimi. Però dici, cavolo, non ci riuscirei mai a fare quella roba. Li vedi distanti. Li vedi distanti. Se fai una roba, lui dice una cosa bellissima che è... Io non so cantare, non so ballare, non so imitare, ma so fare tutto. È fantastica. È vero. In realtà lui sa fare tutto molto bene, perché è bravissimo. Se si mettesse realmente lì a suonare il piano, in un mese suonare benissimo il piano. C'è questa capacità incredibile. Soffermati più su quello che devi dire. Cioè, cosa vuoi raccontare alle persone? Il test è più importante dell'imitazione. Cioè, se racconto qualcosa... Se fai un'imitazione fatta così e così e il test è forte, sembri un imitatore incredibile. Se fai un'imitazione fatta troppo bene e il test è leggermente... Sei bravo imitatore, ma lascia perdere il testo. Ah, fregatura. Questa non ve lo diranno mai. Solo qua oggi, ragazzi. Non ve lo diranno mai. Anzi, la tagliamo. No, no, la tagliamo. Mi fai un esempio di una tua imitazione che anche tu riconosci magari non essere tecnicamente perfetta. Cioè, dici, magari ci sono altri che la fanno mille volte meglio, però seguendo quel consiglio li fa ridere. Ora, vabbè, brosio, che diceva, la facciana, che non è fatta bene. Però ti fa ridere il suono, no? Il suono della voce. Ci sono delle dinamiche che... Prima non davo per scontato. Dicevo, ma perché le persone... Quando vado sul palco e faccio allegri, non ridono tanto. Se faccio allegri che fa l'allenatore, uno dice, sì, vabbè, ok. Ma se faccio allegri che comincio a dire... Allora, secondo la fisica quantistica, e quindi comincia a parlare o di scienza, allora le persone ridono perché non te l'aspetteresti mai. Allegri che parli. Quindi la decontestualizzazione è più divertente della... Ma l'ho capito adesso, stasera, ora. Che incredibile. Vabbè, siamo contenti. E invece è un'imitazione che provi a fare da una vita, ma dici proprio non mi riesce. Bisogna stare attenti perché quell'imitazione di personaggi super conosciuti, che possono essere tipo Celentano, Berlusconi, quelli super... Dobbiamo evitare di farlo perché loro li fai benissimo, oppure c'è il rischio che facciano un paragone con qualcun altro. Cioè abbiamo troppo in testa queste voci. Se fai quel personaggio così, così, non famosissimo, ma è uguale, non è uguale. Ci sono dei personaggi che ho fatto che non sono fatti bene alla gente. Ah, ho fatto benissimo, no. Hai dimmene uno? Tanti ce ne sono. Tipo il Papa, non parla così come lo faccio io. Oppure Spalletti. Però non è quella voce che senti tutto. Ora sì perché Napoli è primo. Però quando il Napoli non era primo, ti soffirmavi a fare quella cosa. Beh, le persone diverse divertono. Se ti magari hai un tic, se fai crozza, per esempio, è geniale, perché l'imitazione non è... La voce non è fatta benissimo, ma li trova le parole, tre parole giuste, un tic giusto, che la farà... Cioè è pazzesco lui perché poi ne sforna quattro, cinque settimane. Sì. Ora ho visto l'imitazione di Zelensky, ho fatto molto ridere perché gli ha trovato dei tic. e poi è andato contro a qualcosa di lo faccio, non lo faccio. Io dicevo, ma la faccio stimidazione perché non è politicamente... Bisogna stare attenti, no? La faccio, la faccio, si offendono tutti, però se la fa crozza la può fare, io non la posso fare. Quindi mi massacrano. Però se ti massacrano, parlano di te. Quindi va bene. Dove che cazzo? 120 parenti non si avvano niente. Sempre meno, vedi? Certo. Nel frattempo 30. E una che oggettivamente con molta poca umiltà dici sono il più bravo, uno dei più bravi a fare un personaggio? Allora, ti dico quelle... Quando il pubblico mi dice, la gente mi dice guarda, questo mi piace di più, almeno dai messaggi che vedo subito e magari De Sica è quello che piace di più anche. Infatti sui social quando vedo che sono un po' in down faccio De Sica. Quando vedi che faccio De Sica è perché non ho idee. Allora fai lui e sempre perché c'è De Sica giovane e De Sica di ora. Mi fai sentire la differenza. De Sica giovane si muove tutto, parlava veloce, no? Allora, ma tra me, andà! E invece quello adesso bevo l'acqua perché sono un po' allappato. È più lento quando parla, capito? Sta divanato, sta... si guarda intorno. Ma tutti, anche se vedi, a una certa età si guardano tutti intorno, tipo Banffi ora. Si guardano tutti, ci hai fatto caso sta roba? Sì, è vero. Prima no, parlavano. Ora si guardano. Perché secondo te? È perché... Non so, non è una domanda sincera. Ti faccio a uno giovane, no? Cioè, noi non ci stiamo guardando intorno. No, no. Cioè, a una certa età magari... Non so perché. No, magari... Come se ci avessero i ladri in casa. Ma non è anche un modo per... Tipo quando vai nel talk show, tu immagini come se qui ci fosse il pubblico intorno. Anche un modo per cercare l'approvazione del pubblico. Anche Paolo Villaggio, da anziano, faceva... Beh, si guardano tutti intorno. È vero. Anche i ragazzi... Cioè, è vero, ragazzi. Sì, è vero, è vero. Non so perché c'è sta roba. Forse perché ti senti negli anni osservato da tutti e quindi questi personaggi diventano giustamente ripotenti perché famosissimi e si guardano intorno. Tornalatore non si guarda intorno. Gli allenatori sono sempre belli. Sempre lì guardano un punto fisso. Cosa direbbe Spalletti di questo podcast? Ma... Il podcast sia... Uno... Io penso che questo... Allora, si dipende dalle dinamiche. Ok. Dipende dalle dinamiche. Se parliamo di podcast, non è che si parla di podcast a caso. Ma, Luciano, perché secondo te noi non siamo primi in classifica in classifica dei podcast? Questo lo dici te. Lo dici te che non sei prima in classifica. A volte... Chi sei secondo me qualcosa tipo di politicamente scorso? Cioè, se tu facessi un podcast nudo sul divano... Dici... Tipo... Secondo me non avrebbe successo. Nel podcast c'è Giuliacci. Nudo. Giuliacci nudo. Questo è... Meno male che è venuto due puntate fa. Dove ci ha bevuto di viaggio. Sempre quello. Sì, ne approfitto anche per dirlo. Cioè... Lo sento un po' di brezza marina, un po' di vento, un po' di... Parzialmente nevoloso. Se bevi automaticamente sai che tempo fa in qualunque posto di Italia. Tipo prova e dimmi che tempo fa in Sicilia. Magari posso bere e cambio voce. Bello, no? Sarà bello. Sarà bello. Vai, prova, prova. Magari funziona. Perché mi viene in mente personaggio, capito? Che ne so, magari bevendo quello diventa automaticamente Roberto Benigni. Questa è l'acqua più buona del mondo. È una cosa incredibile. Non mi ha bevuto una cosa... Vedete proprio la bellezza di questo bicchiere, no? L'acqua, il bicchiere, mezzo pieno, mezzo vuoto. Quando è che si guarda? È una cosa più importante. Grandissimo, Leo. Senti, so che però... Allora, da imitatore, quindi ti faccio una domanda seria, incredibilmente, so che ti stupirà, però... No, no, no. No, da persona che ha fatto il proprio successo alla propria vita, le imitazioni. Quando devi essere te stesso e quindi parlare come Leo Fiaschi? È una cosa che ti fa sentire un po' vulnerabile? Ti piace farlo? Non ti piace farlo? In realtà a me non piace fare le imitazioni. Veramente? È una roba strana. Veramente, ok. Allora, succede questo. Quando vai a casa e ti lasci, fai... Perché se uno è abituato a cercare la... Di solito parte timido l'imitatore nella vita, io ero molto timido e ho cercato attraverso l'imitazione di distruggere questa cosa. Quindi l'imitatore parte timido. Ero timidissimo, non uscivo di casa proprio io. Ho detto voglio essere l'opposo, come in quel film di Pozzetto diceva da grande, voglio diventare grande, voglio diventare grande, voglio diventare... E dicevo voglio cambiare perché se tipo dentro di me c'era qualcosa, come di rocco, dentro di te c'è qualcosa. Alla fine ci sono... Detta così o magari preferirei di no. Alla fine, alla fine poi i personaggi ti escono spontaneamente, a me diverte più quando escono all'improvviso, non quando sono e ora... Cioè è questo la vecchia formula. Certo. Se nascono all'improvviso, ok, dà fastidio quando magari è capitato veramente a un funerale o a... Cioè se faccio i matrimoni dei parenti, ancora amici, è la fine perché devi fare tipo mezz'ora di spettacolo. Fammi questo, fammi questo. Poi sono ubriachi e quindi devi andare avanti. Certo. E mi è capitato anche a funerale, mi chiesero tipo desica al funerale. Vabbè, lascia perdere, era bravo, era bravisso, mi dispiace molto. Capita veramente, perché se la persona era sconosciuta, uno si butta e dice vabbè, possiamo scherzarci sopra, se è vicino troppo vicina o è successo all'improvviso non scherzi, è una dinamica particolare, no quella. Sì, magari sarebbe stato un po' fuori luogo. Un po' fuori luogo, ma le cose fuori luogo sono anche bellissime. Sta roba dei personaggi, quando sei a cena, quando te lo chiedo, no, fammi quello. Se mi viene spontaneo, mi diverto. Se ci sono persone che tutta la sera ti chiedono una roba, diventa noioso. Quello che ho fatto io negli ultimi dieci minuti. No, però è diverso. No, però è una situazione diversa. Se c'è un amico che fa il prestigiatore e per lui è ancora peggio, per lui deve girare con i mazzi di carte al ristorante appena esce fuori, ah io faccio tu, dai dai, e parte lo show gratuito. Ti chiedono, facci qualcosa, vai facci qualcosa, dai presentaci qualcosa, oppure, Rocco si fredda, dai facci qualcosa, che caso ti fai? Magari, Rocco magari ovunque. Bro, se facci qualcosa, si faccia fare un miracolo, qualcosa. Quindi dipende, se le robe sono spontanee, ora questo è un podcast, è diverso, ma ci sono situazioni dove sei stanco, morto, cioè è stancante poi la roba là. Quando ti vengono spontanee, se ci sono dei personaggi nuovi, allora li fai, li provi tutta la sera e poi dall'altra parte vedi se funzionano, perché se ti fanno, ah ma sai che questa cosa sembra quel personaggio là? altrimenti io non le sopporto più le imitazioni, cioè in realtà me odio, cioè quei personaggi che faccio non le sopporto più, amo quei personaggi comuni, le persone che conti per strada. Beh a me aveva fatto, raccontiamo questa, a me aveva fatto molto ridere quando la scorsa estate ho fatto il programma dopo di voi in radio e tu a caso ti sei messo a imitare lo zio del sud di un nostro regista, cioè che chiaramente non è... Non esisteva neanche. Esatto, non esisteva neanche. Che parlava tutto così. Però faccia veramente ridere. Perché mi è capitato di fare uno spettacolo negli Stati Uniti. Ok. Con Marco Marzocca, uno spettacolo si chiama I am Italian Style. Ed era uno spettacolo in inglese? No, sai che faccio. No, ok, ok, no. No, vabbè. Ti dico il rapporto con l'inglese, il mio rapporto con l'inglese. No, vai. Prima questa cosa qua, spettacolo I am Italian Style con Marco che vive a Tampa, quindi ti vivi negli Stati Uniti da otto anni, non sa una parola d'inglese lui. E quindi lo spettacolo funziona così. Lui fa la vecchia signora che segue il nipote di nascosto. Non puoi andare negli Stati Uniti da solo. E quindi si porta tipo le lasagne dentro la borsina, una roba assurda. E... E là è successo che... Perché sono? No, perché mi stavi parlando di questo spettacolo. Allora, facciamo questo spettacolo per l'inglese. Volevano che io facessi l'imitazione in italiano, non volevano che io parlassi in inglese perché tra le tre parole quindi... e la... E pensa, c'era Bob Dylan lì a fare uno spettacolo. Però io dicevo ma perché Bob Dylan fa uno spettacolo dove ci sono 300 posti? In realtà è quello era uno spicchio mobile e che si boveva e faceva parte poi di un contesto di un teatro di 3.000 posti. Allora ha detto ah, ho capito, vabbè, ciao. E vi siete esibiti a Tampa, quindi in Florida. Siamo esibiti in Florida. E quindi insomma il rapporto con l'inglese è stato un po' complicato. e un'altra volta mi successe quando facevo Colorado facevo Gordon Ramsay. Però facevo la voce del doppiatore italiano i movimenti di Gordon Ramsay vero e le parole le parolacce erano bippate dal maialino quello dell'autogrill. Come no. Certo. Mi arrivò una mail in inglese in realtà mi era arrivata sul sito e mi era arrivata e dici boh spam tipo amor mio te amo tanto voglio passare un'ora insieme a te quella roba la certo ah ecco ricollegando Palazzo D'America lo feci leggere poi alla suocera e dici ma che è questa roba qui c'è una richiesta di collaborazione perché negli Stati Uniti cercavano un imitatore di Gordon Ramsay ma pensa sì in realtà c'era scritto come siccome me la cavo con lo scozzese sono inglese perché dicono scozzese ma che sta scherzando e lì ho perso un bel treno perché era una bella trasmissione e io quella mail la fotografate l'ho messa da un quadrettino me la guardo ogni tanto vedi l'inglese e a volte ci pensi se quella me l'avesse risposto oh yes yes sì magari non lo so non sarebbe successo niente oppure boh chi lo sa però era un'occasione un'occasione persa per l'inglese e lo zio d'America l'altra volta ecco ritornando a questa roba di Peppino che il personaggio è nato a caso è perché l'ho incontrato la serata che abbiamo fatto a Tampa allo spettacolo c'erano queste 300 persone e tipo 150 erano italo-americani di quelli che stanno là da tanti anni no che stanno sdraiati così tutto con il suo panso grosso tanta e questo faceva tutta la sera io pianto quando ho cantato la canzone senza giacca senza giacca dai fammi senza giacca e cravatta così schiaffo tipo cannavaciuolo tipo cannavaciuolo ed è lì e parlando di come nascono le tue imitazioni spiegami un po' tutto il processo creativo cioè nasce da una persona che tu vedi e dici lui è imitabile a quel punto inizi da solo a casa a ripeterle c'è un rischio che è quello di se vedi una persona ti viene da imitarla se tu in questo momento se tu mi guardassi così io volontariamente farei così anch'io quindi non è bello perché magari se uno c'ha e quindi ti prendi subito dei tic o il suono della voce pagli con un altro magari dici sai che questo è imitabilissimo devo memorizzarmi sta voce quanti a volte registro perché potrebbe essere un personaggio fantasia questa roba io faccio degli esercizi poi mi guardo mi ascolto la voce del personaggio mentre faccio cose in casa tipo devo fare Amadeus ascolto Sanremo bene allora festival di Sanremo questa cosa bravissima me ne ascolto mentre faccio altre cose poi quando devo vedere i movimenti mi guardo senza audio quindi magari vedo la mamma entra in casa e vede me che guardo così la televisione senza audio con Amadeus dubbio che conduce i soliti ignoti c'è questa roba che tipo Carlo Conti quando lo guardo fa sempre questa roba e uno dice un po' carino Carlo Conti no ma è modo suo guardi senza se voi guardate la televisione senza audio scopriete un mondo bellissimo è un esercizio che è vero è molto affascinante mai avrei pensato che facessi così vado senza audio sempre senza audio ci sono tanti che guardi i movimenti delle mani tipo Mughini non lo so imitare però fa sempre questa roba e te ne accorgi se lo guardi senza audio in radio non si può fare infatti io volevo farti una domanda legata perché tu fai la radio fai gli spettacoli live vai in televisione adesso in queste ultime settimane mesi ti abbiamo visto a tale e quale com'è che cambi mi spieghi come adatti i vari personaggi al contesto in cui ti trovi perché giustamente tu vai in televisione a fare giovanotti ti puoi anche vestire da giovanotti penso a lui perché poi sai che succede fai giovanotti ti arrivano messaggi da personaggi importanti ho visto ho visto giovanotti mi è piaciuto tanto poi vai a leggere il giorno dopo un giornale e fanno il nome di un altro abitatore veramente sì perché la sfortuna di chi fa le abitazioni col trucco è che può essere chiunque tu sparisci e quindi ultimamente è successo ho fatto benigni e in realtà hanno fatto complimenti a un altro quindi dici ok perché l'ho fatto certo perché ho fatto tutto questo e dopo vent'anni capisci che non è SV il trucco inizio di dire ok cioè io sto facendo pubblicità a quel personaggio ma nessuno è tosta quindi basta parrucchine trucco però in televisione in teoria si punta tutto su quello anche se ora con l'intelligenza artificiale diventa un po' più complicata ma nel senso parli del deepfake di quelle cose lì o in generale il deepfake comunque ti lascia spazio alla tua voce alla non lo so a me spaventa un po' la tecnologia spaventa perché non so a dove arriveremo cioè ora ci sono robot che costruiranno robot cioè proprio siamo oltre no ci saranno dei robot che faranno podcast altri robot a me sta è tutto bene eh sì anche io a me ed è subito mamma di pingu che parla io la socio sempre al senegale sembra parla una lingua tipo sbagli certo perché poi c'è la mamma nel dubbio mi dissocio perché sembra un'offesa verso la comunità no assolutamente io c'ho un sacco di amici lo faccio perché c'ho mamma du che è un ragazzo dove so io lo stesso palazzo e in questo palazzo che lui che è subaffitto insomma siamo 30 persone no ma sto scherzando no no ma conosco lì mamma du che è tra tre ore di radio di podcast e quindi ciò lui si diverte quando fa e io dico guarda mi dai delle parole delle frasi cerco di parlare la memoria e lui dai va bene fa così va bene tra mio palazzo cosa fai fa la cosa di lì se no è sempre colpa mia prima mamma du poi gli altri poi gli italiani è sempre la stessa Salvini devo dire regala sempre sempre emozioni invece in radio ad esempio in radio hai solamente la voce a disposizione quindi ti senti più nella tua dimensione perché dici non devo neanche stressarmi di come come mi mostro cioè qua ti puoi puoi anche non parlare quindi può essere sarebbe bello un podcast dove ti muovi e basta sai un'ora così di artiste con il film però questo discorso devo aspettare la radio quando succede la mattina quando faccio radio in realtà mi muovo tanto quindi se faccio papaleo faccio dei movimenti e spesso capita che strappo la cuffia perché mi muovo loro non mi sentono più quindi faccio sì un attimo allora sì è giusto quello che stai dicendo vengo e attacchi ma che stai dicendo ma ti funzionano male le cuffie no no in realtà facevo troppi movimenti e mi ho strappato la cuffia tutto capita oppure il cavo di tutto succede ma il radio è più complicato perché appunto devi conquistare il pubblico con la voce mentre televisione è più semplice perché c'è non verbale un sacco di roba quindi la radio è una grande scuola te lo sai benissimo no cioè la radio è una grandissima scuola poi te sei bravissimo perché ti fai una roba da solo è complicato devi trovare sempre un argomento con chi le fai le chiacchiere poi a parte l'ospite è difficilissimo però ti apre veramente dopo che hai fatto la radio secondo me puoi fare qualsiasi roba qualsiasi sei pronto a tutto se ti dicessi sono d'accordo sembrerei di parte però però lo dicono molti lo dici tu adesso lo dicono tantissime persone se vedi persone che fanno televisione che non hanno mai fatto radio hanno difficoltà mi dici vabbè ora ti do un programma parla vai ok si o è tutto scritto però è vero sono molto d'accordo difficilissimo cosa direbbe Amadeus sul suo passato in radio che oggi gli serve molto beh Leonardo per me in radio è sempre stato il gnotto numero 40 e invece il teatro in tutto questo dove si colloca per te teatro penso al primo posto no in realtà io la cosa che piace tanto a me è il cinema io amo il cinema sono un patito di cinema e ho delle cose scritte mi piacerebbe tanto farlo perché però in Italia l'imitatore è visto più come un pappagallo in altri paesi no ma qua è visto come dai fammi la voce di quello in realtà tipo Favino è un imitatore pazzesco e può far benissimo cioè infatti ha fatto Craxi ha fatto dei personaggi incredibili Mario Draghi sa imitare perché se fai le imitazioni ti avvicini al mondo della recitazione cioè che poi se fai cinema c'è tutto il discorso che non reciti devi essere te stesso ci sono tante scuole che è giustissimo il teatro tornando al teatro il teatro è bellissimo perché si è pieno si è pieno se no ti è mai capitato di fare una serata in cui c'erano due gatti davanti spesso e lì cosa fai no vabbè no no capita capita perché dipende come fai la pubblicità che fase stai vivendo però ecco magari uno che all'inizio ha la propria carriera quindi non ha ancora un suo ho fatto diverse serate devi a stand lì il mindset che devi avere qual è me ne frego che ci siano due persone all'inizio ci stavo male ci stavo male all'inizio poi dopo una volta feci avevo 22 anni ero dentro un centro commerciale a Vicenza d'estate che cazzo feci questo spettacolo non c'era nessuno ero io e la gente il mio agente neanche il direttore del centro commerciale sai dove era? a vedere una serie televisiva su cioè neanche lui eravamo solo io e lui e addirittura c'erano vicini dei gonfiabili sei i gonfiabili dei bambini e c'erano dieci persone e mi facevo guarda voglio bucare il gonfiabile dentro il centro commerciale dieci persone al gonfiabile ero da solo feci un'ora con e col mio agente mi piace ma lo sai che è stato lo spettacolo più divertente di sempre io perché perché mi faceva troppo ridere la situazione e lui piangeva mentre io facevo personaggi io ah beh visto che ti interessa tanto vuoi anche il bis sai io ho fatto un'ora rispetto a prove aperte per il tuo agente per lui poi una volta grosseto cinque persone erano tre polacchi poi la gente e un'altra signora anziana che tra l'altro prendeva punti una comica che vuole rubare il repertorio questi tre polacchi si sono divertiti perché cercavo non parlavano neanche italiano quindi è una roba certo però ti aiutano tanto le discoteche vai a fare una serata in discoteca difficoltà uno non ti conoscono difficoltà due sono ubriachi perché sono stati tutta la settimana chiusi in ufficio e vengono lì e si devastano terzo vogliono le ballerine vogliono la musica perché si preparano una serata danzante e quindi ti dici ma che faccio che gli racconta questi ma che gli racconto in una discoteca fortunatamente a quel punto via facciamo i cantanti e quando la canzone parte quando non c'è quando sei in difficoltà vai facciamo la canzone cantano ubriachi e io ho visto delle scene bruttissime visto le persone tirare il pane a me arrivava un bicchiere d'acqua tipo un bicchiere d'acqua c'è delle robe devastanti se fai solo un monologo è difficilissimo il vantaggio diciamo dal mio punto di vista sono più fortunato perché fai l'imitazione e quindi catturi l'attenzione ma se fai il monologo è veramente difficile perché dipende dove sei certo e di tutti i personaggi di cui hai fatto le imitazioni comunque per chiudere questo capitolo per dare un consiglio anche magari a tante persone vogliono fare il tuo lavoro e sono in quella fase lì in cui non hanno ancora un loro pubblico quando davanti hai due polacchi una signora insieme lì devi immaginarti che ci siano mille persone oppure dici no sono tre gatti e io mi concentro per loro dobbiamo accettare la realtà cioè ci sono tre gatti raccontaci io vedo tante robe perché social sono da tanti punti di vista un'arma a doppio taglio perché vedo tante persone che ah ieri teatro pieno che nascono dai social poi si vantano di fare il teatro pieno non voglio vedere gli sti teatri pieni e poi non lo so se vieni dai social e non hai fatto magari animazione nei villaggi o non hai fatto la gavetta cioè dove veramente te mangi i sassi e mangi di tutto dopo è più complicato è molto più cioè purtroppo però ora con i social si confonde la realtà e quindi sono tutti dei geni sono tutti Marchino Branks official no tutti hanno questa roba official che ben venga però è difficile poi dopo devi fare il palco queste persone non ti diranno mai ho fatto sui social ho 300 mila 300 mila mi seguono non puoi poi dire a queste 300 mila persone che c'è la teatro vuoto beh è così perché è difficile poi che uno possa venire a vederti in teatro devi cittarla sta roba e di tutti i personaggi sono veramente tanti che tu hai fatto negli anni che continui a fare è mai capitato che qualcuno di questi ti scrivesse ti chiamasse all'improvviso dicendo oh questa imitazione mi piace un sacco oppure non farla mai più ti odio cioè qualcuno che la prendesse male cioè perché se uno facesse la mia imitazione credo lo vedrei come un riconoscimento incredibile però ci sta che molti magari se la prendano dipende ora tu dici così per questo lo dici chi ah Luciano è il mio punto di vista non voglio contraddirti questo lo dici ti lo sai per chi per chi perché dipende se uno ha un difetto fisico se uno ha un difetto c'è una roba che questa cosa mi fa soffrire subito l'imitatore te la va a prendere chiaro mi è capitato trovare quelle super gentili tipo Marco Masini è fortissimo tipo Piraccioni è uno che la sua quando gli faccio imitazione la fa girare quindi la manda magari a Carlo la manda a Giorgio e poi ci sono quelli no tanti sono così Gabbani per esempio contentissimo ci sono stati Cremonini anche Cremonini stesse che commenta sempre lui viene e dice altra volta ha scritto mi piace quando mi fai con le convulsioni faccio sempre questa cosa che quando parlo si muove con la testa figa figa questa cosa e poi ci sono quelli che proprio non mi hanno mai scritto ci sono dei personaggi che proprio sono i tagghi che ora col tag puoi arrivare a tutti beh è vero ci sono quelli tipo un altro carinissimo De Sica un signore che è contentissimo ma l'ha condiviso tante volte poi quelli che non ho citato possono andare a fare no scherzo fate i conti e capite quelli che no tipo Allegri è fantastico cioè lui mi chiama alle cene perché vuole che lo prenda in giro cioè lui è il numero da quel punto di vista è il numero uno perché magari uno dice eh ma con i giornalisti ma dal vivo lui è fantastico è cioè lui è un fiorello entra nel bar e di tutti si diverte una persona umilissima una persona generosissima e mi fa oh ma ho fatto imitazione è vero ma ho fatto imitazione infatti quando ho fatto il programma con diretta Leotta diretta Gol tutti a dirmi non si può scherzare diciamo non si può scherzare sul calcio perché lui stesso dice dove è Leonardo oh no ma quello vero sei te dai della serie prendimi per il culo certo per lui è uno sciomani incredibile e se lo dice lui va bene è fortissimo a me piace sta roba se non ti prendi sul serio vuol dire sei un grande se ti offendi tipo un grandissimo Costanzo lui piaceva essere imitato perché le persone intelligenti accettano sta roba poi quelli che si offendono c'è qualcosa che va chiaro però è una cosa che devi piacere ragazzi se non ti piace imitazione devi piacere grande Lore tutto bene ragazzi è pazzesco questa cosa qua sono venuto proprio dall'Himalaya per venire qua a fare intervista sono fighissimo ti ringrazio ma sai che non riesco a trovare in nessun supermercato il Maite il Matteo che usi tu Maite è la nostra scenografa lei si chiama Maite facciamo un applauso a Maite 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 tu lo bevi il mate no fantastico il mate ragazzi ieri mi sono fatto io ho frullato un mattone ok mamma mia pazzesco lo consigli calcinacce e mattone mischiati con un po' d'erba aromatica quella che cioè questo è un amico pazzesco che ho conosciuto praticamente lui è lui è praticamente dello Zimbabwe ok in mezzo dello Zimbabwe e in mezzo di Casalecchio di Reno certo e mi ha fatto questa pianta pazzesca poi dopo un po' mi ha detto quello lì è prodotto allo sterco degli animali fantastico quando è che vai di nuovo in bici in Himalaya sì penso di farmi questo percorso mi farò questo percorso che va da Caltanissetta a Buenos Aires c'è un oceano in mezzo non so quanto sia fattivo questo famoso c'è un ponte non lo sapevo c'è un ponte che hanno deciso di fare fantastico che collega praticamente questa parte del mondo dove ci rendono tutti uniti perché lui vuole anche una cosa importante ragazzi ragazzi Leonardo Fiaschi ma che mito è no grande Leo un'altra cosa che volevo chiederti questi li ha fatti Maite quella che non beve veramente sì sì lei è molto brava la nostra scenografa è una puntata di applausi un applauso a Maite secondo in una puntata ha visto che l'ho beccati subito è perché questo è il nostro set cioè la riproduzione di questo set bello senti Leo una cosa che invece sempre per dare consigli utili visto che ma perché ho dato consigli utili no no li hai dati li hai dati sono contento di essere il tuo stagista e quindi voglio chiederti qual è una cosa che un comico barra imitatore invece non deve mai fare tante cose non deve mai strafare sulle cose cioè secondo me è giusto non sopporto per esempio gli spettacoli che durano più di un'ora e mezza ok non lo so uno deve rimanere con la voglia di rivederti quello che un comico deve mai fare è fare quello che ho fatto io già no è cercare questa voglia di essere ok vi faccio vedere che so fare che magari viene spontanea perché poi che fa sto lavoro in realtà nella vita è triste cioè siamo c'è un abisso dentro è vera quindi questa cosa è un grande stereotipo allora io apprezzo quello che è inquieto quello che è misterioso perché vuol dire che si tiene tutto per quando deve andare sul palco a me piace invece il fatto di divertirmi non perché voglio dimostrare chissà che cosa perché mi diverto a scherzare come se fossi con i miei amici ok e quindi al di fuori di qua mi piace essere la stessa persona che è giusto e non è giusto non lo so questo poi il pubblico lo decide ma amo tantissimo quelli io amo come era villaggio amo tanto cioè che dici è cattivo bello io amo quelli cattivi per esempio quelli cattivi perché poi sono i più buoni di tutti cioè Morandi è troppo buono c'è qualcosa che non va non capita che la persona è troppo buona sì sì certo dici sicuramente deve avere anche lui lei dei difetti non devi essere troppo buono col pubblico perché poi il pubblico stesso diventa padrone della situazione beh è un grande a me piace molto Angelo Duro che ha fatto della sua comicità non di certo l'empattiglia e la gentilezza col pubblico che poi conosco benissimo lui sono fantastici cioè lui è però a me piace perché quello che dice è in realtà è quello che pensiamo tutti alla fine chiaro e ho notato che quando sono sul palco e attacco il pubblico senza offenderlo perché non mi piace ma le persone alle persone piace essere un po' attaccate perché è quello che pensiamo un po' tutti cioè quindi quello troppo ecco uno deve essere troppo easy troppo super gentile perché beh quindi mi dici che si può fare prese tantissime volte adesso scomodo uno dei miei comici preferiti che cito sempre ho già citato anche in questa puntata Ricky Cerveza lui ha fatto della sua forza l'insultare cioè lui sale sul palco dell'arena sold out con 80.000 persone e chiama il pubblico feccia qualunque cioè per dire ma lui è l'estremo poi l'umorismo inglese quando ci sono i comici come lui tutti dicono ma in Italia quella roba lì non si potrebbe mai fare invece secondo te se è fatta in un certo modo la si può fare cioè puoi costruirti la tua nicchia in cui farlo ci vuole coraggio cioè ora ci sono dei personaggi che è coraggiosi certo non ti danno un programma su Italia 1 su Canale 5 su Rai 2 ma lo fai in altri contesti a me piacerebbe tipo fare quel come si chiama un posto dove si fa stand up non mi viene in mente il comedy club il comedy meno che non so l'inglese no vabbè quei locali il comedy club sono bellissimi cioè ora io mi diverto più a vedere quelli spettacoli là non lo so perché perché oggi ci sono quelli ne ho visti diversi e ci sono ce ne sono tanti che la soffrono che non sono pronti che cercano di attaccare il pubblico ma si vede che sono ancora non hanno la cattiveria cioè ci nasci anche con una certa cattiveria poi ci sono alcuni fantastici De Carlo mi piace tanto lui come no certo bravissimo vabbè Angelo stesso ma ce ne sono diversi ma lo stesso Luca Ravenno non è proprio quello stile ma molto bravo anche lui magari non non ha una comicità che attacca direttamente il pubblico però uno è cattivo ma ci crede realmente poi lo capisci perché viene fuori l'anima del personaggio di solito le persone nella vita sono buonissime sono fantastiche ma io le apprezzo perché hanno il coraggio di portare quella cattiveria lì che tengono nascosta dentro sul palco ecco le apprezzo tanto perché ti aprono mille ti aprono mille mondi sta roba ci sta e in Italia non lo so se siamo pronti ancora veniamo sempre un po' dopo è un rischio cioè Amadeus è stato intelligente perché ha portato Angelo Duro là e quindi vabbè c'è stata una premessa quindi ah vi dico questa cosa qua poi io vi dico cambiate canale perché poi dopo l'occhio senza la premessa le persone sarebbero offese molto probabilmente che ne pensi secondo te beh è un discorso particolare ne parlavo anche con Luca Ravenna nella puntata che abbiamo fatto con lui perché io gli ho detto ma secondo te perché in America per dire se sei un comico puoi condurre gli Oscar o i Grammy che sono la cosa più nazional popolare del mondo in Italia se sei un comico magari anche un po' cattivo non fai Sanremo no? magari a Sanremo ci vai come ha fatto Angelo Duro come super ospite perché c'è una persona come Amadeus che crede in te ci punta e dice mi assumo io la responsabilità di chiamare uno come te quindi Will Smith è stato un po' italiano lì è vero? no vabbè era un po' italiano ora sei un po' presa per quella battuta sbagliato dai no lì lui ha sbagliato totalmente ciao Will ci starà sicuramente anzi dico non ha sbagliato così viene come ospite Will schiaffi stavolta a casa tua a te mi è capitato che durante uno spettacolo qualcuno volesse menarmi sì no o menarti o magari prendesse la libertà di salire fare sbrigare gridarti contro sì allora ho fatto una volta vabbè mai ho detto che siete peggio serate l'ho fatta nei peggiori bar di Caracas una volta ho fatto la saga del rutto ecco 2500 persone e io non riuscivo ad andare avanti perché dietro lo ruttavano tutti facevano le prove bravo quindi ma scusa e c'era uno nel pubblico faceva quando te ne vai in realtà stavano andando benissimo quando te ne vai e allora gli dissi senti allora ma vieni fuori magari fai qualcosa renditi utile e gli dissi stai hai pagato per entrare e io quei soldi li prendo io pensa a un tuo so cretino no perché poi alla fine è quello che cerca di menarti anche dici e è successo quando scherzi col pubblico c'è quello che si vuol fare vedere dalla ragazzetta o dagli amici e quindi ti prendi il microfono e dice due o tre cose però non deve succedere questo cioè non deve diventare la normalità prima mi succedeva perché davo troppa ero troppo buono col pubblico e quindi allora il pubblico stesso prendeva il sopravvento e sta roba poi col tempo ho capito come gestirla come si fanno a gestire questo tipo di imprevisti ad esempio beh dipende l'impatto che c'è già subito i primi tre passi che fai quando entri sul palco ma anche l'impostazione stessa del corpo se se tu vai e e sei insicuro si capisce subito le persone volontariamente la percepiscono l'insicurezza in uno che sta sul palco automaticamente si permettono di dire quello che vuoi o succede se dall'altra parte non c'è se il pubblico non se sei ospite in una serata con tante persone non ti conoscono allora uno il pubblico si permette di dirti quello che vuole perché non hai ottenuto abbastanza consenso dagli altri e quindi uno dice vabbè io dico che cazzo mi pare tanto certo ma voglio essere più simpatico di te farò vedere al pubblico e sono più simpatico e è capitato cioè gli schiaffi degli schiaffi sono capitati ma non tante volte non tante volte ho visto persone che hanno fatto delle robe incredibili rincorse da altre persone comici rincorsi da altre persone perché poi litigano beh mi viene in mente questa comica pensa qualche tempo fa questa comica ma non famosa si sta esibendo in un comedy club credo a New York a Los Angeles e ha fatto una battuta su Trump forse quindi tema politico tema molto caldo una del pubblico una persona del pubblico ha iniziato a insultarla perché probabilmente era un supporter di Trump e lei è stata bravissima a gestire la situazione nel senso che ha iniziato a dialogare con questo qui e a fare battute anche su di lui fatto sta che lei ha postato la clip di questa cosa proprio fatta da uno col telefono sui social e Jimmy Kimmel le ha detto vorrei che venissi a fare 5 minuti stand up nel mio show vedi per farti capire anzi no credo addirittura che lui l'abbia ripostata lui abbia solo ripostato il tweet e lei ha risposto lui dicendo se vuoi vengo a fare i 5 minuti del tuo show e lui ha detto vorrei tanto e lei ha fatto il suo debutto in un programma di late night americano grazie cioè per dire grazie all'imprevisto lo vedi a volte gli imprevisti sono fondamentali cioè sono importantissimi ti accade quella roba e non te l'aspetti le robe più belle avvengono quando meno te l'aspetti no il famoso colpo di fulmine lavorativamente parlando no però è vero se ti metti io a volte spesso spesso mi è successo sta roba di oh cavolo mi sono preparato benissimo per questo poi nessuno ti sei cagato come sui social ora viviamo con sai quanti like farà questo post andrà virale questo video poi ci rimane male perché poi metti il video a caso fa un botto improvvisato fa il botto e dici ma come succede spesso in questo caso uno che fa il tuo lavoro come deve comportarsi con il consenso del pubblico cioè tu sei uno di quelli che dice io il mio lavoro lo faccio per il piacere di farlo e buttarlo fuori diciamo poi se un video diventa virale bene se invece andasse anche male certo magari il piacere non ti fa però comunque tu sei contento di aver condiviso una tua idea una cosa creativa in cui tu credevi lo lascio perché è normale ci siano cioè sarebbe troppo bello è come quando fai c'è un personaggio che piace di più e uno che piace di meno l'imitazione è fatta meglio devi abituarli anche a delle le persone devi abituare anche a delle cose che non funzionano ma altrimenti crei sempre un'aspettativa incredibile cioè è come che ne so Zalone fa un film fa un botto dopo io non lo so mi verrebbe un po' d'ansia della serie chissà come sarà quello dopo cioè più di così non posso andare alzi sempre di più l'asticella perché poi come fa un milione come fa un milione meno ah vedi è peggiorato capirà 60 milioni ha fatto 59 è peggiorato certo è come l'allenatore vince tutte le partite ne perde una ora per esempio c'è Spalletti ho visto quando ha perso con con la Lazio tutti però salire più forte salire più forte perché ha battuto lui però tutte le vittorie però mister lei cosa ha detto tutti questi detrattori che le hanno detto così ma come Spalletti o come Spalletti quando sono venuto a dirle che lei ha sempre venuto se ne ha sbagliata una allora automaticamente non è più bravo possono dire quello che vogliono non mi frega una beata siga voglio dirglielo senti Leo un'altra cosa che voglio chiedere poi una domanda di rito di questo podcast poi se il team dello stagista ha una domanda per Leo siete benvenuti come sempre fate le domande fate le domande non abbiate paura sai come la prof a scuola non abbiate paura non siamo cattivi qual è una tua passione che nessuno conosce di cui magari sui social non parli però è una cosa di cui sei tanto appassionato a me piace tanto dipingere o fare delle delle opere un po' surreali veramente ok sì è per questo che hai dato un occhio ai quadri sì sì mi piace tanto perché cioè dietro a questo si nasconde l'intimità di una persona quindi uno ha dipinto questa roba ma anche ti ha dipinto questa roba perché dentro di lei c'è qualcosa e mi incuriosisce chissà che cosa c'è dentro questo magari non voglio mai sapere a me piace molto lavorare con con le facce dei manichini ok però le teste di polistiro e spezzarle mille no cosa che faccio normalmente a casa con le persone beh Jeffrey Dahmer è stata una persona che mi ha spilato è stato il mio pittore preferito no in realtà c'è un concetto che a me spaventa l'ignoto a me spaventa sta roba di non conoscere quello che non conosciamo spaventa e incuriosisce hai paura della morte domanda dal podcast one more time ci sono degli orari ci sono degli orari un po' di po' magari non promettiamo nulla perché magari a noi ci pensi siamo tutti stagisti non sappiamo che cosa c'è dopo entriamo in un concetto sì sì è vero però tutto ciò che è misterioso che non conosciamo incuriosisce per esempio io mi immagino sempre queste facce le facce dei manichini sono anonime cioè possono esprimere tutto come niente e io le faccio risucchiate risucchiate dal sistema noi siamo tutti risucchiati dal sistema non abbiamo il coraggio di andare oltre c'è qualcosa che ci limita cioè dobbiamo per forza rispettare delle regole ma qualsiasi regola e le regole sono giuste altrimenti sarebbe tutto così impossibile ma sono intanto un concetto veramente il divano si sta quasi anche un po' sgarbi non so se lo fai comunque credo che sia molto importante parlare di questo concetto giusto giusto mandacela un'opera che la appendiamo qui nel nostro studio sicuramente non mandarci la testa è un po' inquietante ma magari viene uno e ti dice ma chi è sta cagata l'importante è non ci mandi la testa del manichino cioè mandaci cioè li mi spaventare un po' ho comprato ora un quadro di un artista che è bravissimo si chiama Emilio Ventura allora lui fa mi sono comprato questo quadro e fa no ma non lo vendo perché perché è un po' inquietante non lo porto neanche alle mostre allora lo prendo per quello allora lo prendo perché ci sono un frango lo prendo e c'è questa cornice nera grandissima che riporta un po' al mondo ecclesiastico e c'è un vescovo che si mette così davanti al quadro e copre una donna nuda bellissima con una come si chiamano quelle bamboline lol lol che guarda a caso messa lì è bellissimo bello c'è un sacco di roba dietro al quadro ma io avrei detto che fossi un appassionato di art di questo ma abbiamo scoperto una cosa su di te che non sapevamo piacciono le robe tipo uno geniale che c'è è Paolo Migone ok che poi abbiamo fatto la regia lo spettacolo che faccio e lui è la persona più geniale che io conosca e qua ogni volta che vado a casa sua e ora lo dico pubblicamente se ci sono dei ladri voglio andare a casa sua lui ha questo bagno alla marocchina ok bellissimo e il tipo il vide lo usa per mettere i calzini dentro fa delle robe surreali ma alla marocchina vuol dire che è tutto decorato d'oro tutto con tubi che si vedono quindi non sono all'interno dei muri proprio al centro della stanza c'è tipo la vasca una roba bellissima poi ha questa veranda grande veranda alla giapponese non ha un pavimento normale sono dei blocchi dei pietroni da piazza lui ha chiesto proprio al sindaco di poter mettere dei pietroni in casa vogliamo dare anche l'indirizzo di casa sua se qualcuno vuole allora se volete è un po' un'accademia ora non ricordo no 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 a me piacciono queste robe bellissimo e l'altra volta io la guardavo sono andato a bussare eravamo nella stessa albergo il buso non c'era di notte perché avevo bisogno del dentifricio Paolo c'è il dentifricio li vado a bussare salgo sopra era fuori che guardava tutta la città eravamo a Firenze e che stai pensando stavo pensando una cosa pensa se tutte le persone venissero pagate per i sorrisi è un'immagine bellissima cioè uno una persona passa e paga uno che sorride è fantastica una scena e lui ci sta pensando a tre del mattino e poi c'è l'avvenuta questa cosa qua esiste veramente pensa se esistesse quello che tiene diritti dell'eco sai l'eco ecco la voce ecco dalla prima parola dalla seconda c'è uno che ha diritti sia di questa cosa ma non credo non so se si possa depositare entri in un meccanismo di domande esistenziali è bellissimo quindi le tue due passioni sono l'arte e anche un po' porsi domande impegnate beh ma non è una roba un po' no vabbè vabbè però si torna anche a quello che dicevamo prima del comico che in realtà è tutto tranne che cazzaro cioè uno che si fa mille domande esistenziali e a proposito di domande il nostro team ha una domanda per te prego c'è una domanda domanda dal pubblico si proprio per questa parola del ignoto dove ti vedi tra qualche anno e se il cinema potrebbe far parte del tuo futuro dove ti vedi tra qualche anno e se il cinema potrà far parte del tuo futuro allora rispondo prima alla seconda me lo auguro nel senso che si 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 che poi sono collegate la seconda mi piacerebbe tanto però lascio che sia non dico tanto il destino perché poi il destino lo disegniamo noi alla fine quindi siamo noi che quello che dice eh beh è il destino no te lo costruisci con le tue mani la fortuna te la crei se sei uno determinato alla fine la fortuna ti viene incontro io credo molto anche in questa cosa della della legge dell'attrazione credo molto nel visualizzare le cose nel visualizzare le cose il cinema sai che che è una cosa non mi sono mai posto ah farò il cinema è il mio sogno è fare il cinema no è una domanda che non mi faccio mai quindi potrebbe essere visto che non mi faccio mai questa domanda quel colpo una volta ho fatto solo un cortometraggio che ha vinto un che ha vinto un bel premio il globo d'oro a Cannes che è comunque un riconoscimento perché io ero il coprotagonista in questa vicenda in questa storia è andata molto bene perché alla fine io non ho interpretato nessun personaggio ma ero Leonardo è una roba stranissima non ho interpretato nessuno ero Leonardo è l'unico che è che ha detto la frase bellissima che l'imitazione più difficile da fare è quella di Leonardo non l'ha detto cioè non l'ha detto uno su se stesso essere se stessi quindi l'imitazione più difficile per me è quella di Leonardo non riesco a capire e sta roba del cinema mi ha appassionato tanto è impegnativo è un mondo straordinario e poi rispondere all'altra per poi rispondere all'altra che era come mi vedo fra qualche anno tra cinque anni per l'esatte mi sono dato un tempo massimo mi sono scritto delle cose su un foglietto che tengo che custodisco e spero di poter aprire il prima possibile ci sono non lo so perché poi la vita cambia improvvisamente magari ci avrò un bar in Messico e racconterò la mia vita racconto la mia vita ma ci vuole il personaggio e fai i personaggi dietro il bancone tra un mojito e l'altro il bello della vita è questo anche no c'è quelli che dicono ah vabbè però la vita la vita è una ficata è incredibile perché da un momento all'altro puoi cambiare totalmente e ritrovarti all'altra parte del mondo cioè è questo il bello magari fai la stagità in Galles esatto ma risponderò di no alla mail perché non so fare l'accento non gallese ma scozzese per tornare guardate la spam in mezzo a amore mio ho tre ore di tempo a passare con te c'è anche una cosa molto bella no Leo ti ringrazio perché questo è un gran messaggio mi piace anche la cosa che è una cosa che cerco di fare anch'io non sempre però quella di scriversi proprio gli obiettivi su un foglio il problema è che non trovo il foglio esatto allora ogni puntata dello stagista si chiude con una domanda che ti ha lasciato l'ospite della puntata precedente dopodiché questo quaderno sarà nelle tue mani e ne scriverai una tu per l'ospite della puntata successiva l'ospite che è stato con noi lunedì scorso ti chiede senza quale elettrodomestico non potresti vivere questa è penitiva da bere dalla brocca ti confermo nessun altro ospite come era la domanda quale di quale da quella neanche Giuliacci ha bevuto comunque senza quale è diverso da quella bicchiere perché senza quale elettrodomestico non potresti vivere in realtà non non ne uso tanti senza quale elettrodomestico non posso vivere oddio frullatore forse ok perché non ho mai voglia di prepararmi le robe e frullo tutto dentro ci sta è frullatore perché poi alla fine il mio cervello è frullatore quindi forse mi piace per quello leo è stato un grande piacere un grande onore essere il tuo stagista per un giorno però non lo chiedo tanto a il leonardo persona cosa quello dopo devo fare la domanda si poi no adesso quando potevo scriverla dopo dopo si si te lo consegno già così dopo la la scrivi quando finiamo prima di chiudere volevo prima di chiudere volevo chiedere non tanto a te com'è andata ma visto che ma adesso l'abbiamo già scomodato volevo chiedere a Carlo Conti com'è stata questa chiacchierata beh questa chiacchierata è stata una chiacchierata straordinaria la migliore tra l'altro posso dirlo il miglior podcast di sempre perché è l'unico in cui sei stato riattribuito no non è vero bene 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 e quindi come direbbe lui salutiamo Leonardo Fiaschi e diamo benvenuto a non possiamo dire chi c'è dopo non possiamo ancora dire salutiamo Leonardo Fiaschi nel ricordo no sono vivo Carlo o meglio salutiamo Carlo Conti e diamo il benvenuto a Leonardo Fiaschi bene 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 questo è il clima giusto questo è il clima dello stagista Leonardo Fiaschi allo stagista podcast grazie ragazzi sono fantastici grazie di cuore Leo grazie a voi il quadro non me lo date il quadro possiamo regalarglielo grazie a tutti